Una trasmissione televisiva può portare alla ribalta uno dei luoghi più belli della Sicilia? La risposta è sì e parliamo della stupenda Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale che si trova nell'omonimo villaggio a pochi passi da Palermo e adagiata nella vallata tra Montecuccio e Monte Caputo. Un luogo ricco di fede, storia, arte e cultura che è diventato ancora più conosciuto e famoso grazie alle ricette del convento, un format televisivo che va in onda su Food Network, in cui tre simpatici Benedettini, Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo presentano e preparano piatti semplici, spesso della cultura tradizionale siciliana. Con molta simpatia e semplicità tra chi prepara e chi assaggia, i tre monaci sono entrati nelle case degli italiani e oltre a far conoscere le ricette della Sicilia hanno fatto scoprire, ai tanti che non la conoscevano, l'abbazia di San Martino delle Scale, che ha avuto un boom di visitatori a seguito dell'espload della trasmissione di cucina che ha in qualche modo anche cambiato la vita del monastero. La nostra vita è stata stravolta, dove prima avevamo pochissimi visitatori, adesso i visitatori si sono quadruplicati. Ogni domenica abbiamo tantissimi visitatori, ogni seconda e quarta domenica del mese noi organizziamo visite guidate con il pranzo, quindi è possibile pranzare al refettorio con i monaci, e visite guidate con la degustazione delle nostre due birre. Lì ogni seconda e quarta domenica del mese abbiamo sempre sui 400-500 visitatori. Grazie a questa televisione riusciamo ad annunciare un messaggio di pace, che è quello che Benedetto ci dice nella regola. Cerca la pace e perseguila, e cercare la pace significa cercare Dio, quindi vogliamo dire al mondo cercate Dio attraverso la pace nel vostro cuore. L'abbazia presenta al suo interno tantissime opere d'arte e curiosità, tutte da scoprire, dal maestoso organo cinquecentesco, alle tele di grandi artisti come Pietro Novelli, Frippo Paladini e tanti altri, ai chiostri, alla farmacia, agli splendidi gruppi scultori di San Martino d'Atur e la fontana dell'Oreto di Ignazio Marabitti. Insomma, un vero e proprio scrigno di fede, arte e spiritualità. La bellezza di questo luogo è il silenzio, che si può godere, soprattutto facendo qualche giorno di ritiro, di spiritualità qui in monastero, dove si percepisce proprio la serenità attraverso il silenzio e la natura che Dio ci dà.